Per la maturità classica, latino-matematica, inglese e filosofia, che tipo di domande c'erano? Dei quesiti abbastanza aperti in cui dovevamo cercare di sintetizzare la richiesta che c'era fatta. In filosofia ci hanno chiesto di riassumere il contenuto della seconda topica di Freud, l'alienazione secondo Marx e il carattere della vita estetica per Kierkegaard. Il grado di difficoltà in genere? Insomma, matematica l'ho trovata abbastanza difficile. Per il latino ci potevano essere qualche difficoltà, per il resto era abbastanza semplice, comunque erano domande abbastanza prevedibili. Maturità linguistica, che tipo di prova c'era? Questa terza prova, a parte filosofia, l'ho trovata abbastanza difficile. Più o meno rispetto alle altre due? Più difficile, più difficile perché c'erano i programmi da studiare. Maturità scientifica, sempre liceo gioia, com'è andata? Bene, dai, un po' di panico all'inizio, poi ci siamo ripresi e abbiamo cominciato a scrivere. Cosa c'era in questa terza prova per voi? Allora, c'erano filosofia, che chiedevano di Marx, Freud, poi c'era fisica, che chiedevano le formule di Maxwell, cos'altro c'era? C'era in inglese un tema da scrivere sulla clonazione umana. Tu hai trovato particolari difficoltà oppure ti aspettavi un po' così? No, me l'aspettavo un po' così. All'inizio appunto un po' di difficoltà, sembrava che avessi scritto tutto sbagliato, poi invece mi sono abituato a quello che avevo scritto. Alisi Marconi, due informatici, com'è andata? E' andata bene, è stata impegnativa comunque come prova rispetto alle altre due, era molto più complicata, diciamo, però ce la siamo cavata. Cosa c'era? Beh, come le quattro materie, matematica, elettronica, storia e inglese. Più difficile? Per me forse matematica, ma neanche tanto, alla fine erano tutte fattibili. E per te? Sì, decisamente matematica, era la più tosta, diciamo. Due ragazze per indirizzo chimico, la prova era secondo le attese, più facile o più difficile? Per certe materie più semplice e per altre invece l'abbiamo trovata un pochettino più difficoltosa. Cosa c'era? Eh, tutto! No, c'era chimica fisica, analisi, matematica e inglese. Tutto piuttosto più o meno fattibile. Siete ottimisti, insomma? Cerchiamo! La speranza è l'ultima a morire. Sì! 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 Grazie.